Non so più il sapore che ha quella speranza che sentivo nasce nel mezzo Grande successo per il debutto all'auditorium flaiano di Pescara per il concerto grosso per i New Trolls, omaggio a Vittorio De Scalzi, fondatore dei New Trolls e autore dei brani più celebri del gruppo rock che in 30 anni di attività, fino alla fine degli anni 90, ha scritto una pagina importante della storia della musica italiana. Scomparso nel 2022, Vittorio De Scalzi è stato omaggiato con un concerto che ha visto esibirsi sul palco del flaiano la Medit Orchestra diretta dal maestro Angelo Valori e una band d'eccezione composta da Roberto Tiranti, Andrea Maddalone, Lorenzo Tonello e Max Vigilante che hanno dato vita a un'esecuzione emozionante con i musicisti che hanno accompagnato in tantissime serate l'indimenticato Vittorio De Scalzi. Il concerto grosso per New Trolls, composto da Luis Bakalov ed eseguito dalla band genovese, è uno dei dischi rock italiani più venduti di sempre. Un'opera che fonde rock e musica classica e che ha fatto vendere oltre 800.000 copie. Nel corso della serata sono stati eseguiti anche altri brani dei New Trolls di Vittorio De Scalzi in una commovente rievocazione del percorso artistico del gruppo caratterizzato da tantissime collaborazioni. Da Fabrizio De Andrè che produsse il primo album ad Anna Oxa e Ornella Vannoni. Mi nascondevo nell'ombra del grande giardino E lo sfidavo a cercarmi, io sono qui Alla fine del concerto, Angelo Valori, compositore e direttore d'orchestra, è stato omaggiato con gli auguri di buon compleanno dei musicisti, tra i lunghi applausi del pubblico. L'ambizioso progetto sarà presto in tournée in tutta Italia.